Chi si è seduto sulla mia sedia? Chi si è divorato il mio pranzo? Chi si è sdraiato sul mio letto? Chi non me lo ha lasciato intatto? Chi mi ha disperso al vento? Chi ha pesato i miei ricordi? Chi mi ha condotto al tuo giorno? Chi ha fatto spazio a se stesso? Il tempo è stato. Il tempo.